Padre Antonio Nuara ci ha abituati a iniziative che vanno oltre quanto di sua stretta competenza. È un sacerdote attento ai mutamenti della società, alle problematiche del territorio e non si è mai sottratto da richiamare anche la classe politica locale e regionale quando ha ritenuto di dover difendere gli interessi della collettività. Non deve stupire dunque la sua ultima iniziativa, ossia la lettera aperta inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la bocciatura dei 31 progetti presentati dalla regione siciliana e relativi a importanti infrastrutture irrigue del territorio, progetti ritenuti incompleti, carenti in più punti e non cantierabili che di fatto fanno perdere alla Sicilia il treno dei finanziamenti nell'ambito del piano di ripresa e resilienza. Don Antonio Nuara della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Ribera si è rivolta al premier Draghi, sostenendo che la provincia di Egrigento e tutta la Sicilia non possono e non debbano perdere questa occasione di sviluppo, sol perché la classe politica e dirigente della regione non è capace di presentare progetti validi e completi. Attacca quindi senza alcuna remora politici e funzionari, definiti inidonei e incapaci, pure se costipendi superiori alla media nazionale. Un prete che scrive questo e che si rivolge al presidente del Consiglio per perorare la causa è una cosa insolita e fuori dal protocollo, scrive Don Antonio Nuara, aggiungendo però che non si può tacere dinanzi al disprezzo palese del territorio da parte di chi amministra. Un prete deve fare anche questo, secondo padre Nuara. al presidente Draghi ha chiesto dunque di non penalizzare i siciliani onesti, piuttosto di nominare commissari che possano sostituire la classe politica e dirigente che non ha saputo redigere i progetti. Questi fondi, ha aggiunto, sono importantissimi per il territorio di Ribera, famoso per le arance, dove ogni anno vengono scaricate a mare oltre 80 milioni di metri cubi di acqua, che se incanalati e raccolti potrebbero migliorare ancora di più la produzione agromicola e determinare sviluppo per il comparto.